bel giretto in bici con i nostri amici elettrizzati eugenio e silvia carabugi grandi oggi in bicicletta dimostrare che si può fare si può viaggiare si può fare le vacanze in bicicletta senza inquinare rispettando l'ambiente giusto eugenio perché la bicicletta è il mezzo più ecologico e salutare c'è silvia che ha fatto 110 km ieri un po stanchina super